L'unione nella diversità, così come accadde tra gli apostoli Pietro e Paolo, diversi ma uniti dall'amore per Cristo, questa sera la frazione di Altarello tornerà ad essere una piccola Sisi dove pregheranno assieme esponenti di confessioni religiose diverse. L'incontro ecumenico presieduto dal vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, si terrà questo pomeriggio a partire dalle 19 nella chiesa Maria Santissima di Portosalvo, in occasione del 500esimo anniversario della riforma luterana. Sarà commentato dai padri che parteciperanno a questo incontro il testo congiunto del Santo Padre che fermò a Luddu, da Luddu ad Altarello, dove si mette in evidenza le cose che ci uniscono. E poi vedo la fede cristiana che la diversità dovrebbe unire. L'esempio classico, l'icona che qui è messa in evidenza, si mette Pietro, un carattere particolare, pescatore, semplice, Paolo, uomo di cultura, un uomo di cultura, parlò dall'aeropago di Atene, dotto dalla scuola di Gamaele, però pur avendo avuto scontri molto violenti con Pietro, ha conservato l'unità. Ma tutti gli apostoli conservarono l'unità. San Giacomo il Maggiore, il figlio del Tuono, rimase unito alla chiesa. Questo è il bello di questi uomini. E questi uomini furono quegli uomini che costruirono la struttura della chiesa. Oggi invece la diversità fa paura. Noi uomini del 2000 non riusciamo a mantenere l'unità perché la diversità ci fa paura. Questa è la differenza. E quindi si cerca con tutte le forze di ritrovare l'unità conservando le diversità. Cos'è che unisce nella diversità? Unisce nella diversità l'interesse dell'altro, la curiosità che bisogna avere dell'altro. Se c'è una persona che ha un interesse particolare, io se sono disponibile, sono curioso di saperne di più della sua vita, del suo modo di pensare, cosa studia, cosa legge, cosa pensa. Se invece sono chiuso, mi chiudo nel mio guscio, la diversità mi allontana. La parrocchia di Altarello conferma quindi la propria vocazione a portare avanti il dialogo ecumenico. Ogni anno ospita infatti incontri di preghiera tra rappresentanti di fedi e confessioni diverse per diffondere un messaggio di pace tra i popoli.